In questo video puoi vedere come impostare le soglie di avviso per il tuo veicolo su Tiremoni TM2 40 e 2 60. Questo è l'ultimo passaggio nella programmazione di Tiremoni. Premere il pulsante sinistro finché non viene visualizzato il menu. Ora devi selezionare il menu B. A tale scopo, premere brevemente una volta il pulsante sinistro. Si accede alla selezione Threshold of Alarm, ovvero impostare le soglie di avviso. Salta al menu premendo il pulsante destro. Il dispositivo è pronto per la prima soglia di avviso. Bassa pressione per il primo asse. Con i due pulsanti di sinistra è possibile impostare il valore come desiderato. Consigliamo 0,5 bar al di sotto della pressione di riempimento a freddo. Confermare l'impostazione con il tasto destro. Si prosegue con la seconda soglia di avviso. Alta pressione per il primo asse. Impostare i valori desiderati. Si consiglia un bar al di sopra della pressione di riempimento a freddo. E confermare l'impostazione con il pulsante sinistro. Ora è il turno della terza soglia di avviso. Alta temperatura per il primo asse. Si consiglia di utilizzare l'impostazione predefinita. Se ora confermi con il tasto destro, il sistema salta al secondo asse. Qui si impostano le soglie di avviso allo stesso modo del primo asse. Non appena si conferma la soglia di avviso di temperatura dell'ultimo asse con il tasto destro, L'impostazione è completata. Questo ti riporta al menu di partenza. Premere il tasto SC per salvare le impostazioni e uscire dal menu. Il dispositivo si riavvia ed è pronto per l'uso con le impostazioni.